Eccoci qua. Mentre vi collegate sistema un po' le carte. Ecco qua. Buonasera. Ok. Buonasera a tutti. Un attimo un po'. Mentre vi collegate io sistemo un po' le carte e ci abbiamo. Un attimo solo. Eccoci qua. Ci siete? Allora, vediamo un po' se ci siete. Ok. Buonasera a tutti. Mi sentite? Se qualcuno mi risponde. Appena vedo la risposta di qualcuno. Mi sentite? Se qualcuno risponde. Ragazzi tranquilli, De Luca c'è alle 21.30, quindi abbiamo tempo per fare i nostri chiarimenti e i nostri approfondimenti. Io sto aspettando che ci colleghiamo un po' tutti quanti. Condividete la diretta in modo che Ciro ti ho visto, in modo da... Ciao Franco, ciao Salvatore Di Rienzo, ciao Laura, ciao Raffaele Miele. Condividiamo un po' tutti la diretta così parliamo una volta sola e bene. Il messaggio arriva a quante più persone possibili. Ciao Armando, Calenzo. Ok, grazie. Ciao Danila, D'Angelo. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Ciao Patrizia. Vediamo un po'. Si sente bene, spero? Condividete tutti sulla vostra pagina così il messaggio arriva in tutte le direzioni. Abbiamo una serie di... Ciao Pietro. Anche dalla Germania. Ciao Gino Pisano. Abbiamo una serie di informazioni doverose da dare attraverso questa diretta perché questo è stato... Siamo già 400 persone collegate. Ragazzi, continuate a condividere. Appena siamo a 500 iniziamo. Quindi appena siamo in 500 si parte. Ciao Gianfranca, ciao Mario Lavanga, ciao Massimo Lungo, ciao Sonietta, signore. Ciao Antonio Di Biasio. Vi prego solo di non scrivermi sul Whatsapp in questo momento perché sennò non ci capisco più niente. Voglio mantenere la concentrazione sulle cose da dire. Siamo già a 475. Appena arriviamo a 500 si parte. Ciao da Posillipo. Claudio, bene a te. Claudio Aproto, un abbraccio. Ciao Benedetto Di Martino. Ciao, buonasera al vice sindaco di Carinaro, Mario Moretti. A Raffaele Zeuli che non ho capito dove sta. Io da Livorno, bloccato da tre mesi. Raffaele, devi tornare subito. Vieni qua e ti metti in quarantena su Lido che c'è Nicola, fratello, che ti aspetta. Buonasera a tutti. Possiamo quasi iniziare. Antonio Dodisco, buonasera. Allora, siamo 553 persone in questo momento, tutti contemporaneamente in diretta. Un abbraccio da Andrea Di Matteo, a tutta Macerata, a tutti i consiglieri comunali, i sindaci che in questo momento sono ad Egidio. Egidio condividi, mi raccomando, condividete tutti la diretta. Ciao Mimmo, non ti preoccupare. Presto andremo a cena con il governatore De Luca, Mimmo Delprete, che me l'ha chiesto dopo il video molto spizioso, quello che abbiamo pubblicato di sera sui cinghialoni. Era un modo per sorridere, per stemperare un attimino, vista la difficoltà del momento. Allora, siamo 600 persone collegate. Ciao Giussi Petrella, sindaco di Sparanise, Salvatore Martiello. Vai, mi dice vai. Lui che è un esperto della comunicazione, se mi dice vai, possiamo partire. Buonasera a tutti. Allora, alcuni aggiornamenti doverosi, perché ci sono state delle novità importanti in questi giorni. C'è stato l'ultimissimo DPCM 26 aprile del 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha in qualche modo ridefinito le regole comportamentali dei prossimi 15 giorni. C'è stata poi, sono state due ordinanze del governatore De Luca, come voi ben sapete, le ordinanze del Presidente della Regione possono solamente restringere gli spazi di libertà che ci vengono dati in questa fase emergenziale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non possiamo allargare. Quali sono le novità che sono, prima di parlare delle novità che sono importanti e che sono entrate in vigore, però a partire dal 4 maggio, voglio fare uno screening importante su quello che è l'evoluzione, siamo già a 710, su quella che è l'evoluzione della emergenza in questa fase. Ebbene, in Campania attualmente abbiamo uno dei, nel rapporto tra densità demografica, quanti ne siamo, e tamponi effettuati e positività, abbiamo una delle percentuali certamente più basse, siamo quasi 6 milioni in Campania, non lo dimenticate. Attualmente i positivi sono 2906, sono stati circa 1300 guariti, è la regione nella quale c'è stata sempre nel rapporto con la densità demografica uno dei tassi di mortalità più bassi d'Italia. Nella giornata di ieri sono stati, quindi sono attualmente 2726 positivi. Nella giornata di ieri sono stati processati 2906 tamponi in tutta quanta la Campania, con un esito di 25 positivi. Ormai sono già 6-7 giorni che i positivi si attestano tra i 20, 18, 15 al giorno e i tamponi sono mediamente, già da 10-15 giorni a questa parte, circa 3000 al giorno. Quando qualche mio collega qualche tempo fa diceva sì ma in Campania, quasi come se fosse un accello del malaugurio, sì ma in Campania i positivi sono pochi perché stiamo facendo pochi tamponi, evidentemente diceva delle fesserie perché i tamponi oggi sono già da 15 giorni, sono circa 2000-3000 al giorno e le positività si stanno abbassando. La verità è che noi stiamo facendo un ottimo intervento territoriale, cioè cerchiamo di afferrare il contagio appena nasce. È tardi, quello che non hanno capito in Lombardia, intervenire quando si arriva alla terapia intensiva. Noi con gli antivirali, con i presidi territoriali che abbiamo dislocato, anche in provincia di Caserta, Graziesa, Fiedimonte Matese e a Caserta, che poi copre tutto quanto la rete territoriale, assicuriamo una presenza, una visita a domicilio e quindi le persone a noi guariscono prima di andare in terapia intensiva. Fermo l'estando che abbiamo poi predisposto tutto il corredo delle strutture ospedaliere necessarie per ampliare i posti di terapia intensiva. Abbiamo l'ospedale Covid a Maddaloni, abbiamo un altro ospedale modulare che è stato fatto a fianco all'ospedale civile di Caserta, solo Covid. Abbiamo quindi fatto, distinto subito e tempestivamente, i Covid dai non Covid. I risultati si vedono, ma si vedono anche grazie al comportamento disciplinato, serio o seguioso delle prescrizioni di noi campani, di noi casertani. In provincia di Caserta, attualmente siamo già 805 persone incollegate in questo momento, in provincia di Caserta ci sono oggi 120 positivi. È un dato bassissimo, tantissimi guariti, 120 positivi su un milione di abitanti è un dato che ci fa bene sperare. Nella giornata di ieri fino a stamattina sono stati processati 263 tamponi. Ci sono 4 positivi ieri in provincia di Caserta, rilevati stamattina alle 10, l'ultimo aggiornamento dell'ASL. Sono già 7-8 giorni che in provincia di Caserta oscilliamo tra lo 0, 2, 3, oggi 4 positivi al giorno. Su una media di 200-300 tamponi processati al giorno sono buone notizie, ma dobbiamo stare attenti. Pensate che stamattina uno dei positivi di oggi è una bambina di 3 anni, una bambina di 3 anni che sta assistita, monitorata, sarà curata. Sono sicuro che guarirà, ma per farvi capire che la battaglia non l'abbiamo ancora vinta. Un concetto che io voglio diffondere è questo. Andiamo verso la fase 2. La fase 2 significa che avremo tanta libertà in più, recupereremo almeno un barlume di normalità. Noi non dobbiamo cercare di farci spiegare da qualcuno e per iscritti in che modo comportarci. Dobbiamo essere noi ad autoregolamentarci. Ormai le tre parole d'ordine sono evitare ogni forma di assembramento, il distanziamento sociale. Non dobbiamo stare a discutere ma un metro o due metri, meglio tre metri. Cioè quanto più stiamo distanti l'uni dagli altri, ovviamente nei casi in cui questo è possibile, quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo agli esercizi commerciali, quando andiamo negli uffici, meglio è per noi. Se andiamo in un ascensore e ci stanno quattro persone, voglio dire è meglio aspettare e salire su quella dopo. Non è che dobbiamo aspettare De Lugo o il governo centrale che ci devono spiegare se nell'ascensore dobbiamo andare in quattro piuttosto che in tre, piuttosto che in due. Ieri in un'intervista qualcuno mi chiedeva ma in macchina dobbiamo andare in due, ma possiamo stare in due, seduto uno a fianco all'altro o uno deve stare avanti e uno dietro. Mettiamoci in testa che purtroppo queste maledette mascherine, fin tanto che non ci sarà una cura efficace, fin tanto che non ci sarà un vaccino e ci vorrà tempo, le dovremo utilizzare necessariamente. Da lunedì sono addirittura obbligatori in Campania, sono obbligatori nel momento in cui però il Presidente della Regione si è guardato bene dal garantire una consegna a domicilio, a tappeto per tutte le famiglie dei campani attraverso gli uffici postali, di un kit di due mascherine a titolo gratuito per ogni famiglia e questo è un fatto importante, non è altro che una prima ondata, siamo 900 persone collegate in questo momento, è la prima volta che sfondiamo quota 900, ma questo è un fatto importante perché non è altro che una prima ondata che viene effettuata, domani mattina iniziano le consegne ai comuni, in questo caso non verrà effettuata la consegna a domicilio attraverso gli uffici postali, ma dovranno farlo i comuni, con le protezioni civili, con le croci rossa, per 1.750.000 mascherine che la Regione Campania, che il Governatore De Luca e tutti quanti noi mettiamo a disposizione dei bambini, sono mascherine pediatriche che hanno una finalità ben precisa che è quella di abituare all'uso della mascherina e di proteggere i nostri figli. Per qualcuno che continua a fare dimostrazione di crassa ignoranza, le mascherine chirurgiche servono a proteggere dalla saliva in un ambiente, se le portiamo tutti siamo tranquilli, se in una riunione di lavoro, in un tavolo ovale siamo 10 persone riuniti e ognuno di noi porta le mascherine e stiamo a un metro di distanza, possiamo dire che siamo tranquilli. Questo è quello che ci dicono i virologi, questo è quello che ci dicono tutti i comitati scientifici nei protocolli di sicurezza che stanno elaborando. La mascherina chirurgica è più che sufficiente, quella in TNT, è una mascherina che deve superare la prova della idro-repellenza, quindi non deve far uscire e far entrare gocce di saliva, è da quelle che ci dobbiamo proteggere, non dall'aria. Quindi queste 1.750.000 mascherine verranno consegnate nelle abitazioni di tutti quanti i campani direttamente dai comuni che li riceveranno in consegno. A partire da domani mattina dovranno andare nella zona Asi di Caevano, lì c'è un centro servizi, ai comuni abbiamo già mandato, tutti i sindaci hanno già mandato il calendario, il comune di Carino lo ci andrà domani mattina, un altro comune dopo domani. Insomma c'è un calendario di cui i sindaci sono già a conoscenza, per i comuni più grandi, quindi Caserta, Città, Maddaloni, invece si provvederà attraverso gli uffici postali. Quindi queste sono le cose che stiamo cercando di mettere in campo, ma deve prevalere in questo momento il senso di responsabilità, cioè ognuno di noi deve essere tutore di se stesso e dei propri affetti. Le parole d'ordine, ripeto, sono distanza, evitare l'assembramento e soprattutto l'uso di queste ben dette mascherine. Detto questo, due fatti molto importanti. Abbiamo detto che un commento al DPCM del 26 aprile. Questo DPCM, sappiamo bene che per effetto questo DPCM il 4 maggio ci saranno molti ritorni in Campania. Ovvero il presidente De Luca, che sappiamo essere molto rigoroso da questo punto di vista, ha stabilito dei controlli a trappete, ha blindato proprio i confini della Campania. Oh, stamattina c'è stata, ieri e stamattina, una riunione qua a Caserta, verso la direzione generale dell'Aso, dove è stato predisposto un controllo mirato su tutte quante le uscite caselle autostradali, su tutte quante le fermate delle stazioni, quelle più importanti, che si trovano in provincia di Caserta. Quindi su tutte, anche le reti stradali interne, ci saranno presidi di forze dell'ordine, esercito, personale medico-sanitario dell'Asla, a controllare le autocertificazioni, perché tutti quanti quelli che sono con autocertificazione in regola, non in regola, verranno spediti in quarantena per 14 giorni. E' un contenuto precettivo che ha voluto espressamente il governatore De Luca. Tutti quanti quelli che invece hanno delle autocertificazioni valide, l'autocertificazione è valida, lo potete consultare sul sito del Ministero, della Presidente del Consiglio dei Ministri, sono quelle che documentano comprovate ragioni di lavoro, cioè lo spostamento deve essere tra una regione e l'altra, è valido, è consentito, e quindi non ti porta in quarantena se tu ti sposti per comprovate ragioni di lavoro, portare documentazione a seguito e soprattutto, o per motivi di salute, comprovati. Nonostante questo, anche queste persone saranno controllate, si verrà misurata la febbre, verranno fatti i test rapidi e se è del caso, se ci sono degli elementi intizianti, verrà fatto anche il tampone. Questo è quello che verrà fatto domani mattina per espressa volontà del governatore De Luca. Ovviamente qualcuno, un altro ieri, ha un po' fatto passare un messaggio distorto, distorto, capisco bene che c'è gente che perde il tempo a cercare di criticare gli altri, chi fa, qua c'è sta chi fa e chi sta a guardare, chi sta a guardare purtroppo è tanta gente, ma come si può pensare che arrivano 20.000 immigrati in questo momento tra Caserta e Salerno? E' chiaro che non è così, siamo a mille, abbiamo raggiunto quota mille, questo è assolutamente impossibile, ma basta chiedere alla prefettura, basta chiedere alla questura di Castelvolturno, basta chiedere alle forze dell'ordine e vi smentiranno queste circostanze. Quindi chi ha messo in mezzo questa roba, un dinosauro della politica casertana, che sono 20 anni che sta in mezzo e non ha circa uno, che l'altra mattina si è risuscitato, ha lanciato un'allarme infondata, non ha capito nemmeno di che cosa stiamo parlando. Il governatore De Luca invece ha detto una cosa seria e vera, e ha messo in campo un progetto di screening e di controllo con le ASL territoriale per quelli che ci stanno, per i soggetti già presenti. Noi sappiamo bene che in provincia di Caserta, tra la provincia di Caserta e la provincia di Salerno, circa 20.000 migranti già presenti, in questi giorni, nei prossimi giorni, verranno reclutati nelle campagne per i lavori stagionali, quindi quelli che stanno a Castelvolturno, a Mondragone, a Villalitè, in tutta quanta, a Giuliano, a Lago Patria, nel Salernitano, queste presenze di migranti vengono ogni anno reclutate nelle campagne per raccogliere il pomodoro, per fare questi lavori stagionali. Ci preoccupiamo perché queste persone che fino a ieri sono state chiuse in casa, domani usciranno. Questo è il senso dell'intervento del governatore. E' tanto è vero questo che c'è un progetto nel quale sono stati stanziati circa 400.000 euro per effetto nel quale verranno effettuati dei controlli a tappeto nel Salernitano e nel Casertano proprio per, e vi dico già le zone, Lago Patria, Villaggio Coppola, tutte quante le traverse della Domiziana, Castelvolturno, Testa Volturno, Pesco Pagana, Pineta Nuova, Frazione del Comune di Mondragone, Villa Literno, Casal di Pina, San Cipriano, Daverso, Giuliano in campagna, tutta la zona salernitana che non conosco, la Litorana e Campoloco. Tutte quante queste zone verranno controllate con forze dell'ordine, polizia municipale, personale dell'ASL, enti del terzo settore, per controllare questi stagionali che vanno a lavorare in campagna, per vedere se hanno la febbre, per vedere se sono portatori del virus, per proteggerci e per proteggerli, è un'azione ed è un'azione doverosa, quindi non solo controlleremo i confini della campagna, ma controlleremo anche i migranti che già stanno presenti in provincia di Caserta e che andranno a lavorare nelle campagne in questi giorni come ogni anno da 20 anni, per evitare che queste persone che in questi giorni sono state chiuse a casa e che magari non hanno capito ancora di che cosa stiamo parlando, non hanno capito che cos'è il distanziamento, non hanno capito che cos'è la mascherina, possono essere portatrici di contagi. Queste persone saranno controllate, verranno fatti gli stessi controlli che verranno effettuati domani mattina a quelli che arrivano dal nord Italia. Ricordate bene, quando dico quelli che arrivano dal nord Italia, la diffusione del contagio in campagna è nata da tre persone, tre persone del nord Italia, campani che erano stati su, o tra questi anche alcuni del nord Italia, che erano scesi e che hanno portato il contagio qui. Da tre siamo arrivati a circa 4.000 positivi, di cui 1.300, 1.400, 1.500 guariti per fortuna, 300 e passa di cessi e 2.726 attualmente positivi. Quindi dobbiamo stare molto attenti. E questa è la ragione per la quale il governatore De Luca è rigoroso, perché è terrorizzato di una ripartenza del virus dalle nostre parti. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo mettere in campo il buon senso e dobbiamo essere noi disciplinati e controllori di noi stessi. Quali sono le novità che sono state introdotte domani mattina? Innanzitutto il Presidente della Regione ha autorizzato domani mattina la riapertura di tutte le attività poliambulatoriali. Quindi tutti i poliambulatori domani mattina, da domani mattina ripartono. Io sto leggendo qui proprio una nota ufficiale in questo senso. Nei distretti sanitari dunque si potranno effettuare prenotazioni e visite specialistiche ambulatoriali e domiciliari non solo per le urgenze, ma anche per le non urgenze. Questo va ai medici di base. Quindi le ecografie, gli elettocratiogrammi, le visite cardiologiche, le visite natura ortopedica, quelle otorinolangoiatriche, le visite pediatriche. Insomma tutte le attività ambulatoriali urgenti e non urgenti che erano state sospese all'interno dei distretti sanitari ripartono. Comeppure ripartono da lunedì mattina, questa cosa credo che non si sappia ancora, in Campania anche tutte le attività ambulatoriali nell'ambito dei centri privati. il centro Morrone, il CETAC a Caserta, Ginolfi a Mondragone, il centro Campano, la pinetina a Cassevo al turno. Dal domani mattina sono già pronti operativi per le prestazioni sanitarie ambulatoriali che avevano sempre assicurati come privati convenzionali. Soprattutto riparte l'attività per l'assistenza per le problematiche dell'autismo, quindi tutto il sistema ABBA domani mattina riparte. Queste sono delle novità importanti che le famiglie devono conoscere. Un'altra novità importante è l'asporto e il delivery. In pratica parliamo dei servizi di ristorazione. Che cosa intendiamo per servizi di ristorazione? Pub, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pizzerie. Questi sono i servizi di ristorazione. Ovviamente partono con il delivery, la consegna a domicilio, ovviamente con la prenotazione telefonica, non c'è più alcun tipo di limite orario. Per una settimana abbiamo fatto un tentativo per vedere, per capire se c'era un assembramento, non c'era un assembramento. Per fortuna è andato tutto quanto bene, sarà il primo giorno da qualche parte. Quindi non ci sono più limiti di orario. È possibile chiedere le consegne a domicilio di prodotti che provengono dai servizi di ristorazione che ho sovraindicato. Siamo addirittura a 1100. In qualsiasi momento della giornata, quindi anche le cornetterie, i famosi cornetti che si comprono la sera, io chiamo sempre i cornetti di notte, possono farlo negli orari. Quindi ritorno in vigore i normali orari e le normali autorizzazioni commerciali. È chiaro? Dopodiché dal lunedì mattina riparte anche l'asporto. Ovviamente sia ben chiaro questo, perché purtroppo ci sono sempre due o tre ignoranti in provincia di Casette che anziché dedicarsi a leggere e approfondire parlano a Vanver. L'asporto viene autorizzato per la prima volta in Italia da quando è iniziata l'emergenza con il DPCM del 26 aprile del 2020. Quindi per la prima volta viene autorizzato a partire dal 4 maggio. Quindi in campagna, così come dappertutto, inizierà a partire dal 4 maggio. Che cos'è l'asporto? L'asporto vuol dire che la pizza o il gelato o la bella torta ce la possiamo far portare a casa con la consegna a domicilio oppure la possiamo prenotare telefonicamente o con la mail, queste sono le modalità, direttamente presso la pasticceria, presso la pizzeria, presso la gelateria, il panino al pub o l'isturante, se si tratta di ristorazione, ad un orario preciso. Quindi si va lì, la prenotazione telefonica serve ad evitare l'assembramento, serve ad evitare che sta gente in fila. Mettiamoci tutti un po' di buonsenso da questo punto di vista. L'operatore commerciale che vende il prodotto deve consegnarlo sull'uscio della porta perché non è prevista, non è consentita, ma non da De Luca. in Italia dal DPCM Conte la possibilità di consumare al banco, il gelato non lo posso consumare al banco, il caffè, il cappuccino non lo posso consumare al banco, il panino non lo posso consumare al banco, ma devo arrivare fuori al bar. Quindi il classico takeaway, così come si va da McDonald's, lì paghi e prendi la consegna, così noi dovremmo fare questo tipo di asporto. Ovviamente si tratta sempre di misure graduali, perché io sono sicuro e spero che a metà maggio tutto quanto questo venga superato. Oggi il ministro Bocce, che è uno dei pochi che veramente ha chiare le idee in Italia, ha detto no, ma la dobbiamo finire e ovviamente accogliendo le giuste rivendicazioni del governatore De Luca che dice ma noi stiamo meglio al sud di quelli al nord, non possiamo avere una linea indifferenziata. È probabile che da metà maggio tutte quante queste attività di ristorazione, mi riferisco anche all'amico Pasquale Caldieri e tanti altri amici, avranno una regolamentazione diversa anche per quanto riguarda le funzioni originarie. Cioè io, va bene, oggi la pizza la vado a prendere lì, faccio l'asporto o me la faccio portare a casa. Ma da metà maggio in poi noi confidiamo nel fatto che la pizza me la posso andare a mangiare anche in pizzeria. Ovviamente non prendiamoci in giro. Questo dipenderà realmente da come sarà l'evoluzione della curva del contagio. Se i dati si mantengono bassi così come si stanno mantenendo, avremo tante più possibilità operative di vita quotidiana e commerciale. Se dovesse riprendere verso l'alto la curva del contagio, ci possiamo anche scordare tutto quanto questo. Quindi dobbiamo, diciamo, riaprire, ma con attenzione e con gradualità, perché purtroppo il nemico non è sconfitto. Noi siamo stati tutti chiusi in casa, ma nel frattempo gli scienziati, tutti i comitati scientifici non hanno ancora, diciamo, fatto emergere una cura certa è un vaccino certo. Fintanto che questo non ci sarà, dovremo purtroppo abituarci a convivere con questa emergenza. Difidate di sobbillatori di circostanza e di fase, affidiamoci alle figure istituzionali competenti e soprattutto cerchiamo di collaborare negli interessi dei cittadini e negli interessi anche della verità. Io sto apprezzando tantissimo tanti consiglieri comunali, anche qualche consigliere regionale di opposizione, che collaborano per migliorare pubblicare i provvedimenti, le ordinanze, per chiarire, perché capite bene che siamo in una fase emergenziale e che ogni giorno ci sono mille aspetti della vita privata di ognuno di noi che devono essere regolamentati, ma questo è il momento della collaborazione. Anche perché abbiamo la fortuna di avere il governatore De Luca che viene indicato come uno dei migliori d'Italia in questo momento storico, colgo l'occasione, alle nove e mezza è su Re 2, a che tempo che fa, e quindi insomma vi invito tutti quanti a seguire il suo intervento su Re 2 da Fazio, per cui cerchiamo di collaborare, di essere uniti. Non è questo il tempo delle polemiche politiche, avremo momento e tempi per fare polemica politica. Per quanto riguarda la consiglia di domicilio, un altro aspetto importante, non solo sono stati eliminati gli orari, ma è stato anche eliminato il limite territoriale, quindi la pizzeria di Mondragone può andare a consegnare, per esempio, a Falciano, quella di Falciano può andare a consegnare a Carino e a Mondragone, quella di Castelvoltuto può venire a controllare qui e quant'altro. Questo è un fatto importante perché ovviamente dà mercato a queste attività, la pizzeria, la gelateria, ovviamente il pub, la pasticceria, la ristorazione in generale. L'altra tematica, le attività sportive, anche qui insomma voglio dire c'è qualche chiarimento da fare. Il governatore De Luca ha autorizzato con l'ultima ordinanza le attività sportive dalle 6 di mattina alle 8.30, scolpiamoci bene in testa questi orari, se li rispettiamo, evitiamo l'assembramento, evitiamo il contagio, evitiamo occasioni di diffusione del contagio. Dalle 6 di mattina alle 8.30 possiamo fare le attività sportive. Quali sono le attività sportive? Ascoltatevi bene, la corsa veloce, il footing, il jogging, ma io sono convinto e certo che anche la corsa in bicicletta possa essere fatta e anche la pesca amatoriale perché noi non l'abbiamo vietata come regione campana, abbiamo detto semplicemente le attività sportive possono essere effettuate dalle 6 di mattina alle 8.30. Quindi dalle 6 di mattina alle 8.30 la corsa, la corsa in bicicletta, la pesca sportiva possono essere effettuali. poi discuteremo se quello è l'orario migliore per fare la pesca sportiva per esempio. Chiariremo in queste settimane e preciseremo perché dico la corsa in bicicletta perché quando c'è qualche dubbio anziché sparare cazzate su Facebook a destra e manga non lo dico ai cittadini insomma ai quali va il massimo rispetto ma lo dico sempre a qualche mio collega che non ha niente da fare evidentemente ma nemmeno prima insomma aveva granché da fare e insomma basta andare a vedere un attimino sul sito della presenza del Consiglio dei Ministri dove ci sono i chiarimenti proprio ieri la presenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito l'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro il luogo di residenza i negozi che proseguono attività di venti è inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svoggiare attività motorie all'aperto in ogni circostanza deve comunque essere la prescritta distanza e sicurezza interpersonale quindi anche la corsa in bicicletta può essere effettuata il governatore ha anche chiarito che l'uso della mascherina se fai attività sportiva non deve essere utilizzato ma te la devi portare a presto perché appena finisci te la metti e se ti capita che qualcuno si affianca mentre corri non riesci nell'immediato a rispettare la distanza di sicurezza ti metti la mascherina questo è sostanzialmente il criterio quindi attività sportive dalle 6 alle 8 e mezza di mattina dove volete non devi stare vicino casa a Mondragone per la mia città si può andare a correre su lungomare tranquillamente per i ciclisti si possono andare a correre dove sono stati abituati sempre a fare ovviamente il perimetro comunale dalle 6 alle 8 e mezza di mattina e io ritengo che dalle 6 alle 8 e mezza di mattina ci sia anche consentito andare a fare la pesca sportiva perché non l'ha vietata il governo nazionale non l'abbiamo certamente vietata noi nella definizione ampia di attività sportive ecco vi rientrano tutte quante queste per quanto riguarda invece l'attività motorica quindi la passeggiata familiare mia moglie con i bambini insomma e quant'altro questa è possibile farla in questo caso va utilizzata la mascherina ovviamente se è possibile il distanziamento un metro in questo caso e ci sono tutte quante le prescrizioni che sono state poi indicate dall'ordianza del governatore dunque come tutti ben conoscete altra questione importante è il cimitero anche per quanto riguarda saluto Marilyn Cavallo giornalista che mi saluta io ricambio dicevo anche per quanto riguarda il cimitero l'accesso al cimitero si può o non si può si può si può si può dal lunedì mattina si può ovviamente i sindaci hanno il potere di contingentare gli ingressi cioè hanno il potere i sindaci di come dire stabilire ingresso libero oppure ingresso in ordine alfabetico non lo dice Giovanni Zannini Giovanni Zannini ha approfondito la questione sempre sul sito della presidenza e consiglio dei ministri possono posso andare al cimitero per omaggiare un grado defunto anche al di fuori delle cerimonie funebri si risponde la presidenza e consiglio dei ministri è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento come per i parchi anche nei cimiteri deve essere sempre rispettato il divieto di assembramento e ove non fosse possibile evitare il sindaco può disporne la temporanea chiusura quindi se i sindaci non hanno disposto la chiusura dei cimiteri i cimiteri sono accessibili avevo promesso questo chiarimento al sindaco di Frangolise amico mio Gaetano Tessitore che saluto che è uno che ha combattuto contro il coronavirus e ha vinto e questo ci fa piacere quindi i cimiteri hanno libero accesso ovviamente con un po' di buonsenso insomma è un luogo in cui si va a pregare non mi è mai risultato che nei cimiteri si sia fatto mai assembramento queste sono le cose sulle quali vi volevo aggiornare molto velocemente questa sera questa sera non dedicherò gli ultimi dieci minuti come normalmente faccio della diretta alle vicende di Mondragono perché domani mattina ho appena parlato col sindaco di Pacifico domani mattina lui farà un comunicato molto importante alla città e quindi lo ascolterò con piacere assumo questa sera l'impegno invece insieme ai miei colleghi consigliere giornale ad Enzo Alaria di Avellino insomma a Luca Cascone a Tommaso Casilla a Mario Casilla insomma per far sì che De Luca si faccia sentire a Roma ma già lo sta facendo per quanto riguarda la categoria dei barbieri dei barrucchieri degli estetisti che sono insomma delle categorie dei codici ateco che sono ancora oggi bloccate è assurdo immaginate che questi possono riprendere a giugno anche perché proprio parrucchieri estetisti e barbieri sono quelli che normalmente lavorano nel massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni igieniche questo anche prima del covid le estetiste utilizzano i guanti utilizzano dei dispositivi di protezione individuale sono già abituati per loro storia ovviamente faremo capite bene questa non è una decisione che compete al De Luca questa è una decisione che compete al governo centrale rispetto alle decisioni che il governo centrale autorizza noi abbiamo la possibilità di restringere ma non di allargare oggi il governo centrale nel dpcm le 26 aprile non ha ancora autorizzato questi tipi di attività noi stiamo spingendo per far sì che almeno a metà maggio possono ripartire ovviamente con delle modalità la prenotazione telefonica io credo proprio che non ci saranno problemi anche per quanto riguarda le palestre le palestre secondo me possono ripartire anche qui scaglionando gli ingressi è ovvio che tutto non sarà come era a gennaio non lo sarà per le palestre non lo è per gli uffici pubblici no proprio De Luca ha mandato un'ordinanza dalla quale ha prescritto che tutti gli uffici pubblici regionali quelli che non lavoreranno di smart working dovranno e quindi rispondo qui a Filomena di Santo di Cesa che saluto dovranno tutti gli uffici pubblici che stanno in Campania o gli uffici a controllo pubblico devono scaglionare gli ingressi in ordine alfabetico quindi una fascia alfabetica che entra alle 8 di mattina un'altra alle 8 e mezza un'altra alle 9 per evitare gli assembramenti negli ingressi negli ascensori sui pullman che li devono portare al lavoro sui mezzi pubblici che li devono portare al lavoro dopodiché per quanto riguarda anche le aree mercatali le attività dei mercatali quindi i mercanti ambulanti anche per questi io sono fiducioso che nell'arco di qualche giorno saremo in grado di autorizzare lo svolgimento delle attività in Campania si stanno definendo gli ultimi punti per quanto riguarda il protocollo di sicurezza e qui invece è una competenza della regione che risolveremo a stretto giro ma tornando invece all'altra questione a quella di barbieri parrucchieri ed estetisti e delle palestre qui se il governo centrale non dà l'ok noi abbiamo le mani legate stiamo tutti chiedendo a De Luca di farsi sentire in sede nazionale il governatore sicuramente lo farà appena ci saranno novità per anticipare questa apertura prontamente ve le comunicherò un'ultima cosa credo che vi farò dare in settimana i dati di quanti migliaia di richieste di contributi famosi 2.000 euro in unica soluzione dalla regione campana alle micro imprese casertane quindi quanti sono non potrò sapere quali sono però per ragione di privacy ma quanti sono a fine settimana saprò certamente sono già arrivate ieri in provincia di Caserta 80 liquidazioni 80 comunicazioni in cui il presidente della regione ha comunicato agli interessati la tua domanda è stata accolta positivamente 2 di mattina trovi il bonifico sul conto corrente questo è un aiuto che la regione ha voluto mettere in campo unica in Italia unica in Italia a favore delle micro imprese quindi il piccolo bar il barrucchiere il barbire l'estetista tutti quanti quei codici a teco che sono stati chiusi e che ancora oggi non riaprono nel mese di maggio e nel mese di giugno è confermato che quando il pensionato invece campano andrà a maggio oggi siamo il 3 di maggio ovviamente a maggio di incassi il radio di giugno a giugno incassi il radio di luglio ma quando il pensionato campano andrà a maggio ad incassare il suo radio pensionistico anziché trovare limitatamente alle pensioni sociali pensioni di pensionità 500 euro troverà 1000 euro per due pensionità è un impegno confermato ovviamente ci hanno fatto perdere tempo questi tra l'IMS il garante della privacy in settimane verrà sottoscritta una convenzione la tematica che era quella del trattamento dei dati personali quindi la privacy cioè noi i soldi li abbiamo messi a disposizione dopodiché verrà firmata settimana questa convenzione e anche questo importante intervento a favore delle famiglie la regione campana ripete anche qui unico in Italia lo ha messo in campo circa 70.000 80.000 non sappiamo quante domande quanti contributi per i professionisti e per gli autonomi c'è qualche solito sfigato eh ma come mai insomma adesso stanno arrivando 100.000 domande invece insomma voi avete previsto 80.000 vediamo quali sono quelle realmente finanziabili dopodiché se saranno 80.000 ne finiamo di più se saranno di più troveremo i soldi per finanziarle tutte quindi non ci sta proprio nessun tipo di di problema ma vi ripeto anziché creare sempre allarmismo creare sempre panico cerchiamo di di come dire di di collaborare io vi saluto vi abbraccio tutti ci vediamo la prossima settimana per questa bellissima diretta stasera abbiamo sfondato 1100 visualizzazioni in diretta rispetto a una pagina privata senza sponsorizzazioni è un record assoluto e vi ringrazio dell'affetto dimostrato intanto andiamo re 2 tutti quanti a guardare il governatore De Luca a che tempo che fa buonasera grazie a tutti